Il ramo basso qui, adesso è morto adesso, adesso vola a finire. Passero Mattugia, la vedi la peppola? Dov'è? Qual è? La peppola è... Passi! Meraviglia! Basta! Eh sì, urla Filo! Aspetta un attimo, sono André. Guarda com'è l'aspa con le zampe per... Buia notte. Qui c'è una tesa che mi piace. Mi piace. Riesci a spegnere un attimino il motore? Mi fa una vibrazione. Ecco c'è una peccola, la vedi in mezzo? Si. Chiurlo? Dove? Chiurlo, 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 bellissimo. Ma lo vedi? Si, si, si. Dov'è? Chiù, credo chiù. Chiù e quello là. Dove? E la dritta in mezzo, guarda è lontano.